Signore e signori, buonasera Questa aiuto, questa è Minecraftita Io sono Surry e non volevo cadere qua sotto Allora, stavo analizzando un attimino lo spazio all'interno di questo micro non è un bioma, però insomma di questo micro spazio che abbiamo identificato come Chevy Grove e stavo capendo cosa possiamo farci qua dentro, oltre a un caos incredibile perché, quanto sono rumorose le pale? Vabbè Voglio creare un po' di spazio al volo, ok così siamo contenti Mi serviva un po' di spazio di qua, altrimenti non era livellato e mi faceva impazzire come roba Ora vi spiego perché mi serviva il livellato Allora, stavo guardando un attimino gli spazi, cosa stavo ragionando? A cosa stavo ragionando? Al fatto che qui un castello, quel cazzo che ci sta è proprio impossibile, cioè ci potrebbe stare, potremmo utilizzare un design diciamo non troppo elevato come ad esempio questo come facsimile, non la stessa torre ovviamente e ne mettiamo magari una sinistra e una destra e la parte centrale o comunque cerco qualche design online che è sempre pieno di tante cose carine però non andrebbe bene secondo me perché lo spazio a disposizione comunque non è tantissimo guarda dall'alto secondo me si nota meglio vedi? è poco quindi si potrebbe anche allargare onestamente però ho pensato un'altra cosa noi non abbiamo ancora identificato un punto in cui mettere il nostro altarino dell'uovo di Ender Dragon e ho pensato ora fare un altarino e basta qua nel mezzo è un po' brutto però mi sono imbattuto in questo short perché era su YouTube una specie di vabbè reel tiktok chiamatelo come volete un contenuto uno di quelli verticali in cui viene fatto un tori giapponese ora il tori comunque è un simbolo spirituale però noi qui lo useremo come porta come portale simbolico al nostro altarino e no diventerà il nostro altarino ora nella mia testa ha senso a spiegarlo non sono capace quindi io direi facciamolo e basta che mi sembra un'ottima idea per realizzarlo in realtà lo short che ho beccato suggeriva di utilizzare blocchi del nether e noi ne abbiamo non è un problema ne abbiamo un bel po' di blocchi nel nether però già che siamo lì perché non utilizzare proprio i cherry i cherry block ora io non so quanti ne ho di cherry block onestamente potrebbero essere tanti come pochi abbiamo abbiamo davvero pochi davvero pochi quindi facciamo così recuperiamo un po' di legno e andiamo a a farmarne un attimino tanto bomb meal ce l'abbiamo 32 pezzi solo 32 pezzi prendiamoci un po' di bomb block abbiamo l'accetta non abbiamo paura di usarla cos'altro ci prendiamo 10 cherry log un po' di cherry planks generalmente le cherry traptor le vogliamo usare verrà molto rosa non so se ci piace è tutto rosa però nel frattempo costruiamolo male male peggiore delle ipotesi cambiamo il legno che proprio insomma non mi sembra questa roba distruttiva avremo bisogno anche di un po' di bricks forse un po' più di bricks non ne ho abbastanza trasformiamo qualche bricchettino in più facciamo qualche schetta in più 11 4 8 sì secondo me 11 bastano sicuramente avrò bisogno anche di qualche stone brick wall ma di questi sicuramente ne ho alcuni solo uno eh prendi in giro dai bro non è stato davvero solo uno vabbè creiamo un altro pochino di stone wall anche qui 8 mi bastano 8 no forse più di 8 mi servono bisogna un po' più di blocchi sapete cosa vi dico perché la pietra l'abbiamo usata recentemente non so se me ne è avanzata prendiamo un paio di stack eh perché qua di pietra non ne è venuta tantissima anzi solo 5 pezzi direi che non ci vanno bene prendiamo un po' di questa pietra la mettiamo qui nella cesta a meno che io non ne abbia lasciata no sono due pezzettini come non detto allora facciamo così mettiamo la cobblestone qua dentro e la mettiamo a cuocere la veniamo a recuperare tra pochissimo è notte è notte torniamo indietro fantastico bella stravola delle litre obiettivamente io l'avevo avvertito che poi magari non vi da neanche fastidio anzi vi piace il fatto di vedermi volare eh probabile probabile a me piace a me piace senza dubbio però sicuramente più diventa tutto molto più veloce è la famosa fast life va bene allora andiamo a farmare un po' di questi alberelli li farmiamo direttamente lì in mezzo per nessun motivo particolare tanto andiamo uno alla volta cerchiamo di recuperare anche più cherry sapling possibili stiamo attenti con la generazione di stiamichetti perché anche qua mi è capitato un tiktok lo so io dico sempre di non usare queste cose però già ne parlavo in un altro episodio mi fa incazzare che volentolente ci finisci su questi contenuti oppure te ne mandano uno perché fa ridere oppure è puccioso e cazzo ne so io e poi ti ritrovi nell'anfiteatro di stracazzo di rill che non volevi vedere che invece devi vedere comunque no mi è capitato uno di questi in cui facevano spawnare un cherry sapling e veniva fuori da mezza svastica l'ho trovato più divertente di quel che mi piace mettere però è successo guarda quanti sapling mi ha dato bravo bravo allora cherry log non abbiamo bisogno di tantissimi secondo me cioè non è una struttura enorme è una struttura grande ma non è enorme è un tori avrà al centro degli spazi cioè paradossalmente no se io prendo già i miei bricks e facciamo che uno mettiamo che io voglio il centro più o meno qui quindi uno due tre e uno due tre ok in teoria devo fare una croce sia di qui che di qui nel mezzo deve essere dispari sicuramente uno due tre uno due tre qui potremmo metterci il nostro milaltarino con con le uova con l'uovo perché è solo uno oh che è successo qualcuno ha mangiato ah c'è una pecora ok bella sta roba sti petali che perdono bello bello mi avete suggerito su rimettere anche nella nella valle incantata così droppano i petali rosa la valle incantata dobbiamo farci un ragionamento dobbiamo capire un attimino magari fare anche un po' di giardinaggio come nei commenti scriveva giustamente perché sta iniziando a diventare un po' pienina che con tutti gli animali cioè è bello mi piace tantissimo però obiettivamente a una certa diventa anche un po' leggermente leggermente palloso allora abbiamo degli stone brick wall e questa dovrebbe essere la base principale ma secondo me non basta neanche cioè va alzata per forza un minimo e voi vi chiederete perché stone bricks se stai raccogliendo i cherry log non fate domande per favore perché se no poi entro in conclusione e mi metto a piangere non è vero non è vero scappo direttamente me ne vado allora iniziamo piazzando gli alberelli che poi non sono alberelli sono cherry planks lo stiamo facendo rosa lo stiamo facendo rosa e non voglio sentire non voglio sentire nulla al riguardo se leggo un commento sul fatto che è rosa vabbè non c'è nulla di male potete scrivere quello che volete allora qua dobbiamo salire ancora forse mi conviene portarmi dietro una una fantomatica l'impalcatura nah a che ci serve allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sicuramente il decimo dovrebbe essere quello che ci collega di qua poi ovviamente non è una roba così semplice però il mood iniziale è questo io devo arrivare fino a qui che è il mio blocco faccio così in realtà li ricostruisco così poi più semplice poi alcuni di questi avranno delle fence sempre di cherry altre delle trapdoor e già potrebbe essere un buon inizio io non mi sono fatto le scalette però vedi che sono un cane allora sono un po' un cane che non mi sono preparato facciamo un po' di parkour sulle foglie fantastico anche le foglie non sono riuscite a fare parkour lasciamo stare per favore guarda stendiamo un velo pietoso fai così ok che già va meglio bello finito per questo video è tutto no non è vero allora piazziamo una crafting table che dici mi sembra un'ottima idea craftiamola con il legno classico ah tanto ce l'avevo già avere una crafting table da qualche parte qui vabbè sostituiamo uno di questi facciamo una roba di questo tipo allora ho bisogno sicuramente ma guarda come te lo dico sicuramente di fence poco ma sicuro quanti riesco a farne non sono abbastanza non va bene non va bene non sono abbastanza non sono abbastanza bisogno di più più stichettini più fence 21 non sono abbastanza e non lo sono abbastanza non so che dirti allora dobbiamo creare un effetto comunque di salita quindi la base deve essere bella chunky cazzuttissima e andando un po' verso l'alto un po' meno quindi non so quanti blocchi di preciso ma secondo me guarda ho 21 blocchi nel mio inventario quindi se non riesco a farne giusto giusto 5 1 2 3 4 5 facciamone 5 facciamo così 1 2 3 4 5 andiamo di qua 1 2 3 4 5 stessa roba di qua ok ora ce ne avanza 1 sopra invece mettiamo delle trapdoor anche qui non ne ho tantissime però ci voglio un secondo a craftarle anzi queste sono anche più facili da craftare trasforma tutto poi in un secondo momento potremmo ritrovarci a voler utilizzare magari i cherry i cherry log interi però per il momento così ci potrebbe piacere allora posso quanti mettiamo ne mettiamo 2 2 blocchi per lato dai no devo mettere prima quello sopra ok ora fa un po' effetto vedo non vedo ma è è voluto è voluto perché aiuta semplicemente a dare un senso di allungamento verso l'alto e fai così e fai così vediamo se ci piace ok considera che manca la parte sopra manca ancora questa è solo la parte la base diciamo che come start ci piace diciamo che potrebbe non è che ci piace ma potrebbe piacerci ok meglio diciamo che va meglio sono ancora molto indeciso su questo colore devo essere onesto anche perché rosa su rosa un po' stona però siamo qui balliamo per il momento poi magari cambiamo tutto però nel frattempo facciamo 6, 2, 8 che vanno al sesto e settimo blocco quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ok mettiamolo anche di là allora molto più accessibile del previsto non ho bisogno di impalcatura né di tutto ciò che ne consegue oh forse ho messo troppo in alto cazzo troppo in alto riesco a romperlo da qua ma sono un campione ma certo che si guarda ok allora mettiamo uno lì uno qui no fermo là ok e abbiamo i trapdoor ora mi mancano 20 fence che è tenenti qua un casino guarda usiamo un po' di questo legno qui quante me ne fa fare? oh 13 16 19 me ne manca giusto uno abbiamo un problema abbiamo finito il legno poi come abbiamo finito il legno? cazzo vabbè fai così facciamo che cresciamo un altro alberello fai pinciumpan che ok che è una formula magica allora uno e uno due bello avere un'accetta performante così che spacchi tutto e te ne sbatti un po' il cazzo bello oh coloro in alto male eh ok non vogliamo residui guarda quanti peta lì figata sembra di stare tipo in un anime giapponese e penso fosse l'obiettivo dei sviluppatori di minecraft tra l'altro ma lasciamo stare per il momento allora fammi l'ultima fence ok così abbiamo la nostra base poi devo fare delle scalette e degli slab sicuro mi servono allora partiamo da qua uno due tre quattro cinque voglia no fermo lì cazzo fai ok ora recuperiamo vabbè alberelli tutto ciò che ne consegue facciamo delle scalette e degli slab quanti? non lo so ne ho un po' a sentimento sicuramente devo ho bisogno di altri anche di questi di altri planks facciamo un po' di slabettini 18 potrebbero bastare ci facciamo anche delle scalette 4 facciamone una in più giusto for fun ok 8 e 18 proviamo proviamo nella mia testa ha senso nella praticità delle cose non ho neanche blocchi da piazzare usiamo guarda lo so che non dovrei però cazzo me ne frega fai così sali un po' fai un po' di pista d'atterraggio arriviamo precisi precisi guarda qua che campioni ho le benji ho mancato il mio nonna dove sono indietro calma un po' allora prendi con calma con calma calmati calmati e atterra preciso 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 e no dai di nuovo devo fare un atterraggio più cazzuto ok ok ora va meglio allora se io arrivo fino a qui ci sta che qua io metta una scaletta al contrario no? palese così perfetto e anche di qua poi qui sopra saliamo ancora di due e facciamo ne facciamo uno ancora più lungo giusto? almeno di uno forse anche più di uno ora che ci penso devo dare un effetto proprio cazzuto questo è il mio obiettivo non so se sarà capito qua saliamo sempre di due qua meno uno in più sempre con la scalettina al contrario e ora va reso tridimensionale per reno tridimensionale come si fa? è un po' un casino sicuramente ah no traptor non ho preso le traptor allora dammi un po' di questi andiamo a dormire intanto abbiamo un letto qua vicino ok vedi che già ora ha un'immagine più sensata cioè lo scheletro va bellito comunque quindi placate le armi placate i toni e tutto ciò che dovete placare placatevi va bene perché tanto qua abbiamo la fast life che ci protegge più o meno allora se ne facciamo una cosa di questo tipo ci piace è un po' ci piace allora come rendiamo più appetibile sicuramente facciamo un po' di traptor in più un tintinnino 8 potrebbe essere un buon numero 8 si le scalette allora dobbiamo rendere il tutto più tridimensionale intanto nel mezzo va messo qualcosa che non è strutturalmente solida come struttura forse anche un po' più tondeggiante forse si allora signora zombie lei cioè se ne vada per favore se ne vada ho abbastanza blocchi per arrivare in cima posso andare in giro senza blocchi non ho parole usiamo le scale sono anche se 11 scale bastano hai rotto il cazzo bro non so come dirtelo via vattene sto usando delle scale ma nella maniera più impropria possibile e comunque no dai ok mi bastano allora qui che siamo nel mezzo giusto si piazziamoci questo qua devo creare una zona una piccola depressione e per fare la depressione come faccio? di solito penso alle tasse quando vabbè un altro discorso un altro discorso muore un po' tanta gente devo mettere delle torce qua sotto perché si genera quanti guarda lì un altro scaglietro che si nasconde allora se noi facciamo così possiamo allora magari due per lato uno due questo sopra lo leviamo e potremmo piazzare degli slabettini quindi magari facciamo un blocco qui ma che mettiamo dopo e poi con gli slab ci costruiamo attorno ha senso? potrebbe avere senso tipo se io faccio così e piazzo uno slab qua ci piace? in teoria si facciamo così così distruggiamo questo un secondo perché facciamo così ha senso? penso possa avere senso ok poi sicuramente mettiamo no mettiamo una trapdoor sugli angolini stavo dicendo sia di qua che di qua perché dà un botto di tridimensionalità a cazzo ma come vado di là? devo rompere questo blocco centrale vedi che alla fine è più un ortore di coglioni che altro fermo lì allora mettiamo un altro qua no di nuovo merda dammi qui ok uno di qua e uno di qua chiudi e chiudi ok ora ancora 4 trapdoor dove le piazzo? questa è un'ottima domanda no ridammela maledetto ok niente devo scendere ha perso le mie trapdoor che razza di uomo sono? ha perso le mie trapdoor rosa tra l'altro dai qua grazie va bene abbiamo delle scalette usiamole male ma le usiamo ok in realtà devo salire ancora quindi qua possiamo chiudere magari facciamo così uno due mettiamo il terzo lì questo li leviamo ok abbiamo 4 trapdoor come le piazziamo? allora sicuramente qui dove ci sono i pillarini trapdoor qua dove c'è il pillarone trapdoor nel mezzo ovviamente trapdoor no non possiamo mettere la trapdoor nel mezzo ok allora niente trapdoor nel mezzo ne abbiamo altre due mettiamo gli alleati di qua allora no quindi uno qui ne mettiamo magari uno qua nel penultimo ok già ci piace? non ne ho idea c'è un po' paura devo essere onesto eh perché tutto è estremamente rosa ma proprio tanto vediamo cosa è venuto fuori allora non è brutto perché non è brutto però non è neanche bello no 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 metto già il cartello costruzione più brutta del mondo? cioè levo levo il cartello alla diga? dimmelo tu perché a questo punto allora più che altro rosa su rosa e vediamo se viene un cazzo allora non è male eh come conformazione forse cambierei le trapdoor con qualcosa di più sensato tipo tipo eh tipo cosa? tipo legno allora no secondo me devo usare per forza il birch cioè il birch per le trapdoor magari e il legno intero per la struttura o per una parte della struttura però non posso usarlo per tutto perché non è male però rosa su rosa è un po' una merda va detto poi non si nota neanche troppo la differenza sono dettagli troppo piccoli ok retro front lo facciamo ma con il legno normale e voi direte cazzo sui potete pensarci prima e dovevo vederla prima di farlo dovevo vederla solo vedendola così che mi rendo conto che rosa su rosa è un po' una merda cerchiamo di non morire madonna stavo morendo tantissimo allora quanto legno? 27 pezzi ma non bastano mai nella vita bro ma poi mai nella vita non bastano 15 va bene prendiamo gli altri 15 abbiamo già dei slabettini allora bisogno di un po' di fence l'abbiamo capito per la previsione 40 fence che sono comunque tante allora così sono ok 27 36 39 manca una fence cazzo fai così ok e le fence ce le abbiamo trapdoor magari le facciamo davvero con la birch o vogliamo dare un segnale ancora più forte usiamo lo spruce che ci frega ce l'abbiamo ce l'ho cazzo ho tutto spruce lab qua vabbè usiamo un po' di queste splanks bisogno di una buona quantità di no per niente no non voglio queste trapdoor qua voglio delle trapdoor più cazzute dark oak forse forse è dark oak ciò che cerco vediamo si vede attraverso questo è il mio obiettivo si deve vedere attraverso no dark oak e cioccolato cioè vuoi dimmi che devo per forza usare potremmo usare il bambù usiamo il bambù abbiamo mai fatta una trapdoor di bambù aspetta mettiamole a confronto eh perché prima di far cazzate magari birch è molto più bella fai così no scherzavo però ci fa cagare lo scordo sempre no fermoli bambù ne abbiamo piazzate alcune qui chiedo per un amico si eh ecco bambù ci piace bambù ci piace va bene allora facciamo di bambù ho bisogno anche di qualche scaletta sicuramente allora iniziamo sostituendo ciò che posso sostituire che dici riesco a saltare no non volevo non volevo franchino mi dispiace franchino mi dispiace lo so che non ti uso da un botto ti sentirei sicuramente abbandonato ultimamente cazzo no proprio rosa su rosa non si vede un cazzo ma poi un po' secche secco no un pochino questo un pochino si facciamo così uno due tre abbiamo anche questo uno andiamo verso il basso queste leviamole sostituiamo uno due tre quattro cinque magari rosa con questo colore qui ci sta meglio magari no eh però questa roba mettiamo uno così uno due tre allora andiamo a dormire intanto ma anche se no qua è un casino ma no è proprio che troppo snello regà è proprio no non mi piace non mi piace deve essere molto più grande pensavo fosse solo rosa su rosa ma obiettivamente è proprio piccolino cioè qui del basso non mi dispiace neanche capito è quello dello sbatti però no no proprio no no ragazzi no ci meritiamo un tory molto più bello non so come o lo disegno io da zero con gli spazi oh fermo lì con gli spazi giusti questa roba qui non si può vedere proprio brutta voglio un tory molto più bello cioè questo non va bene neanche nelle build battle cioè nelle build battle ti danno forse un non lo so un premio di consolazione ma se ti va bene ma se ti va bene allora ma io devo come scendola qua bella domanda facciamo uno e uno ora facciamo così uno due tre quattro cinque oh stavo per morire non è vero non è vero pure il creeper come se non bastasse fa già schifo la costruzione se poi ti ci metti pure tu eh qua non ce ne torniamo più ecco questo questo possiamo dirlo tutti insieme questo è un episodio in cui eh abbiamo costruito una cosa per poi distruggerla in effetti non è il massimo allora a mia discolpa nel tutorial che avevo visto veniva molto meglio eh che ti devo dire no voglio un tory molto più grande va bene ragazzi ma per questo episodio è nulla cioè di solito dico che è tutto ma in questo caso è nulla quel tory lì va bene per uno spazio molto più piccolo qui dobbiamo sfruttare meglio tutta la struttura cioè la base deve essere comunque cicciottosa deve essere un bel cerchiolone capito cioè ci sta che la base sia magari partendo non quello spazio lì ma partendo magari da qui un bel tory che fa tre tre ora sto piacendo blocchi un po' così capito parti da qua poi sali di uno e già hai creato una forma più piramidale poi ci puoi mettere anche dei muretti così sembra tutto più più sensato qui fa una roba di questo tipo sembra già molto più carino e qui poi fai partire una croce di legno che sale o addirittura tutta la struttura o forse no oddio non lo so forse una croce ma ti dirò di più forse questo lo spostiamo anche un po' più in qua tipo lì e l'altro lì sempre con un blocco nel mezzo e saliamo un bel po' ci devo ragionare un attimino per il momento comunque è tutto o in questo caso è nulla vi ringrazio altissimo per le giorni ci vediamo domani alle 7 con la prossima puntata di Minecraft Ita ciao a turuturu tutti